Ma cosa sconda? Una bomba! Sono Volantino! Ci unimmo all'illegale Congresso Nazionale Africano. Una bomba con segnalia di Volantino! Sono i nostri fratelli del Congresso, ragazzi. E partecipammo alle azioni anti-apartheid insieme ai nostri fratelli neri e asiatici, diffondendo il messaggio che la libertà e l'uguaglianza di tutte le razze fosse un ideale per cui combattere. Andiamo! Non restiamo a guardare! No, Stephen, non abbiamo tempo, ok? Ma abbiamo lavorato tanto! Non lo so, non lo so, non lo so! Ma che cosa è questa storia? Ci stanno cercando! E voi! Fermi, dove siete? Prezzo! Prezzo, prezzo, prezzo! Ma il prezzo da pagare fu incredibilmente alto.